ore 7 buongiorno perché niente ci toglie il sorriso io ci siamo eccolo qua appena arrivato dal Matese saporito gustoso e tenero eccoci ai cotti dal nostro roast beef il brasato al barolo e il brasato col pomodorino giallo i cotti speciali per non parlare dei nostri peperoni farciti il top del top non celebrarti vita oh vita oh vita skip skip drive so socializza super cari fragilistico e spiralidoso uomo paleolittico di impatto mostro qua Peppe come sei alto stamattina Vittorio la vita è questione di punti di vista hai capito? grande classico quick stop rock'n'roll mister fantastico se esiste un dio forse sì lo spicchio partiamo subito dal nostro capretto prosciutto e coppa di maiale la nostra cotoletta la salsicciata la tracchia la gallinella le polpette e le polpettine il nostro oro russo gli spiedini gli hamburger costoletta cervellatina e il grande peperone farcito il polpettone con i fiarelli è quello classico la salsiccia a punta di coltello i cotti li abbiamo già presentati passiamo al pollo eccoci qua da prospettiva diversa banco spettacolare salvatore salvatore ma non ti preoccupare è cambiato volete vedere come cambia la vita da un momento all'altro? è una questione di punti di vista guardate come si cambiano gli umori immediatamente non ce la faccia senza la vittoria ma poi che cos'hai fatto con il regalo a Maria? no il regalo no a Maria no signori buon weekend e godiamoci questa domenica rilassati anche se è complicato chi vivrà vedrà sarà un grande Natale il più grande che regalo a Maria?